Ciao ragazzi, breve e semplice riassunto del Parlamento. Il Parlamento è uno degli organi dello Stato, insieme al Governo, la Magistratura, il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale, e ha il potere legislativo, cioè il potere di fare le leggi. Il Parlamento inoltre è l'unico organo a livello nazionale tra questi ad essere eletto direttamente dai cittadini e il voto è a suffragio universale, cioè possono votare tutti i cittadini che hanno più di 18 anni. I parlamentari vengono anche chiamati onorevoli e la durata massima del Parlamento è di 5 anni, questo periodo viene chiamato legislatura, però può durare anche meno di 5 anni, se ad esempio il Governo cade e si va a nuove elezioni. Il Parlamento italiano è composto da due Camere, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Oggi alla Camera abbiamo 400 deputati, al Senato invece 200 senatori. Prima però erano di più, 630 deputati e 315 senatori, però con la nuova legge costituzionale del 2020 si è avuto appunto una riduzione del numero dei parlamentari, in linea poi anche con gli altri paesi europei come la Francia, la Germania e l'Inghilterra, e ha permesso inoltre di ridurre i costi della politica. Per poter votare alla Camera bisogna avere almeno 18 anni, questo si chiama anche elettorato attivo. Per essere eletti invece bisogna avere almeno 25 anni. La sede della Camera è al Palazzo Montecitorio a Roma. Per votare al Senato bisogna avere sempre 18 anni, prima invece era 25, e per essere eletti bisogna avere almeno 40 anni. Oltre a 200 senatori si aggiungono anche i senatori a vita, cioè quelle persone che si sono particolarmente distinte in alcuni campi, come la medicina, la letteratura, le scienze, quindi poiché hanno dato lustro al nostro paese vengono nominati senatori a vita. Oltre a questi poi ci sono anche gli ex Presidenti della Repubblica. La sede del Senato infine è a Palazzo Madama, sempre a Roma. Ognuna delle due Camere poi ha un proprio Presidente, per cui c'è il Presidente del Senato che è la seconda carica dello Stato, il Presidente della Camera invece è la terza carica dello Stato, la prima invece è il Presidente della Repubblica. Le due Camere poi hanno gli stessi poteri e svolgono le stesse funzioni, quindi questo sistema si chiama bicameralismo perfetto. Bicameralismo perché sono due Camere, perfetto proprio perché hanno stessi poteri e stesse funzioni. Vediamo come si forma il Parlamento. L'assegnazione dei seggi, cioè il numero di parlamentari per partito, dipende dalla legge elettorale in vigore in quel momento, che può cambiare e di solito si può avere un sistema proporzionale maggioritario oppure misto, che ha un po' dell'uno, un po' dell'altro. Nel sistema proporzionale ciascun partito ottiene un certo numero di seggi pari alla percentuale di voti che ha ottenuto. Per esempio, se un partito all'elezione ha preso il 10%, prenderà il 10% dei seggi in Parlamento, quindi 10% su 400 sono 40 deputati. Questo sistema ha il vantaggio di avere una maggiore rappresentatività, quindi anche i partiti minori possono riuscire a rappresentare le minoranze in Parlamento. Di contro, invece, garantisce meno stabilità di governo, proprio perché ci sono tanti tipi di partiti diversi. Nel sistema maggioritario, invece, il territorio italiano viene diviso in diversi collegi e viene eletto soltanto il candidato che prende più voti. Gli altri, invece, no, anche se hanno preso molti voti. I pro di questo sistema sono che garantisce una maggiore stabilità e governabilità. Di contro, invece, è meno rappresentativo delle minoranze. Infine, quando si va a votare ci sono di solito due schede, una gialla per il Senato, una rosa per la Camera e si mette una X sul simbolo del partito che si vuole votare. E vediamo adesso che cosa fanno i parlamentari. Il Parlamento, infatti, ha tre funzioni principali. La funzione legislativa, elettiva e di controllo. Con la funzione legislativa il Parlamento propone, discute e realizza le nuove leggi. Le nuove leggi vengono chiamate leggi ordinarie. Vediamo velocemente anche come nasce una legge. Ci sono quattro fasi. L'iniziativa, che può essere presa da un parlamentare, dal governo, da uno dei consiglieri regionali, dal CNEL, che è un organo che si occupa di economia, di lavoro, oppure dai cittadini. Basta raccogliere 50.000 firme e presentare la legge in Parlamento. La legge, quindi, viene poi discussa e approvata. Quindi bisogna votare in entrambe le Camere, sia in quella del Senato che in quella dei Deputati. Terza fase, promulgazione. Con il Presidente della Repubblica che firma la legge. La può rispingere una sola volta, se, ad esempio, vede che questa legge va contro la Costituzione. L'ultima fase, invece, riguarda la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, dopo la pubblicazione, la legge entrerà in vigore dopo 15 giorni. Il Parlamento, inoltre, può anche modificare gli articoli della Costituzione, però soltanto attraverso un lungo e complesso percorso. Abbiamo poi la funzione elettiva. Infatti, i parlamentari eleggono il Presidente della Repubblica a Camere riunite. Quindi, nella stessa Camera, si riuniscono i deputati e i senatori per eleggere il Presidente della Repubblica. Inoltre, eleggono un terzo dei membri del CSM, cioè del Consiglio Superiore della Magistratura, e un terzo dei giudici della Corte Costituzionale. Infine, funzioni di controllo, per cui si controlla l'operato del Governo attraverso le interrogazioni, le interpellanze. Quindi, un singolo parlamentare può fare delle domande a un Ministro oppure al Governo sul proprio operato o su che cosa intende fare per il futuro. Infine, il Parlamento può votare la fiducia o la sfiducia al Governo. E quando questa cosa avviene, si dice che il Governo cade, perché non ha più la maggioranza. Quindi, può finire anticipatamente e andare a nuove elezioni, oppure il Presidente della Repubblica può nominare un nuovo Presidente del Consiglio a cui affidare il Governo. Infine, i parlamentari hanno determinate garanzie. per poter svolgere le proprie attività in piena libertà. E queste sono l'insindacabilità, l'inviolabilità e l'indennità. L'insindacabilità garantisce la piena libertà di opinione ed espressione, per cui un parlamentare non può essere perseguitato per le sue idee e può anche votare contro il proprio partito, come garantito dall'articolo 68 della Costituzione. Con l'inviolabilità, il parlamentare non può essere arrestato, intercettato o perquisito senza l'autorizzazione del Parlamento. Però, dal 1993, la magistratura può comunque indagare senza avere questa autorizzazione. Infine, con l'indennità, ha diritto a una sorta di stipendio mensile, più a una serie di rimborsi spese, come la diaria, cioè rimborsi per le spese di soggiorno a Roma e altri privilegi, come stabilito dall'articolo 69 della Costituzione.